Giovedì 25 febbraio, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, siamo in diretta, sono le 7 del mattino e come di consueto siamo qui per sfogliare i giornali, leggerli nei titoli che abbiamo selezionato per voi, commentarli, perché no? E lo faremo tra un istante, prima il santo e poi il tempo. Il santo oggi è San Gerlando di Agrigento, il sole è sorto alle 6.52 e tramonterà alle 17.55. Stiamo vivendo un clima primaverile con l'anticiclone africano, ecco le temperature previste sul sito di trebimeteo.com, un weekend un pochettino più freddo, c'è dell'alta pressione, ma comunque per ancora qualche giorno godiamoci queste giornate, anche tra l'altro senza nebbia qui almeno dalle nostre parti nella zona di Fano. Allora i giornali, Corriere Adriatico, edizione di Pesero, compriamo vaccini con il Veneto, mancano troppe dosi, l'assessore Saltamartini lancia l'alleanza con altre regioni, c'è anche il Friuli, i numeri non danno tregua, Marche verso l'Arancione e Acquaroli pensa di intervenire sulle scuole. A centro pagina la fotonotizia, fase 2, niente rischio in gorgo, l'area vasta sugli over 80 e sui docenti. Poi l'intervista che il Corriere realizza questa mattina con Tavio, che si sfoga, devo curare, non correre in televisione. Marcello Tavio è direttore di malattie infettive a Torrette, presidente degli infettivologi italiani, che non usa mezzi termini, dice come medico il compito di curare, non di correre a creare la notizia per andare in prima pagina o in televisione. E ancora, siamo in guerra dove non ci sono bombe, ma i morti sì, le scelte spettano invece alla politica. Merce sotto costo, con Frodi Carosello quattro denunce, vessa la mamma, 19enne a processo con l'accusa di stalking e poi un edicolante a Fano che è stato derubato, i commercianti fanno una colletta e lo aiutano. La Giraldi invece dalla regione lascia l'incarico, va a lavorare con Legnini alla struttura speciale per la ricostruzione, al suo posto andrà il segretario di Falconare. Poi le silicate, retrocesse, soluzione alla barriera. Il Carlino di Pesero, ecco la fotonotizia, la procura blocca tutto, appartamenti di lusso al posto dell'ex consorzio, tre indagati, il megaprogetto nella zona del porto a Pesero, a sinistra invece il cantiere com'era. Mentre il titolo d'apertura è per il paziente 1 delle Marche, un anno fa il primo contagio, era il 25 febbraio, parla Michele Lamberta, l'ingegnere di Vallefoglia. Le nomine, Morani, niente bis, ma tra i sottosegretari c'è la grillina fanese, a Coto, uomini violenti, uno sportello per recuperarli, c'è un nuovo servizio. Poi l'assessore regionale Saltamartini che vede Arancione, sì purtroppo le Marche rischiano, dice, l'operazione invece della Guardia di Finanza, fatture false, finto consulente, finisce ai domiciliari. L'incontro con Anas, declassiamo le siligate, così si fa la pista ciclabile. Ecco il bocciodromo invece di taglio basso, ora è bar e area giochi, il sopralluogo è la fine dei lavori, poi per quanto riguarda il basket torna in campo il virus, purtroppo nella WL c'è un positivo messo in isolamento, ora test per tutti gli altri e per fortuna domenica non si gioca. Allora, dicevamo che questa volta purtroppo ci sono poche chance per la regione Marche di restare in zona gialla, a parte che siamo giallo-arancioni perché la provincia di Ancona è già in zona arancione, per il resto della regione la situazione non è rosea, usando un po' i colori. Stavolta poche chance di restare in zona gialla, al titolo del Corriere di questa mattina le scuole sono in bilico, i numeri inviati a Roma difficilmente consentiranno di evitare l'arancione, Acquaroli ha confidato allo staff che a questo punto si può tornare alla didattica a distanza, quindi studenti di nuovo a casa. Saltamartini vede arancione, titolo pagina 7 del Carlino, sì le marche rischiano, l'assessore regionale fa il punto sui nostri parametri purtroppo in crescita, questa volta le nuove disposizioni del Governo potrebbero arrivare lunedì. In crescita anche da noi i contagi, 10 le vittime, un solo residente nella nostra provincia, la provincia di Pesero e Urbino. Tamponi rapidi nelle farmacie pubbliche e private, subito grandi numeri, ecco come fare, già tantissimi si sono prenotati per poter effettuare il test al prezzo calmirato di 18 euro, le regole da seguire per sottoporsi all'esame. Poi la campagna di prevenzione al Covid fatta e pagata dal Comune di Pesero, Ricci dopo le scuole farei lo screening anche a tutti gli sportivi. Dal Carlino nazionale, pagina 3, blindati anche a Pasqua, l'Italia resta a colori, Speranza, il Ministro, impossibile allentare i divieti, il Ministro in 5 regioni le terapie intensive sopra la soglia di critica, siamo all'ultimo miglio, non abbassiamo la guardia, dice ancora il Ministro, ma Salvini chiede un cambio di passo, ovvero quello di riaprire i ristoranti di sera. Sono d'accordo anche il Sindaco di Firenze e la Meloni. Sull'altra pagina invece il Corriere di nuovo a pagina 3, Salta Martini, compriamo i vaccini con il Friuli e il Veneto. L'assessore rilancia, soprattutto serve produrli in Italia, nelle marche in particolare. Poi la Fanese Accoto che è stata nominata sottosegretaria al lavoro, entra anche Battistoni, il commissario di Forza Italia, nominato alle politiche agricole. L'intervista invece a pagina 5 del Corriere. L'intervista fatta a Tavio che è presidente degli infettivologi italiani. Questa dice Tavio è una guerra, bombe no ma morti sì e saracinesche che si abbassano e non si alzano. Il titolo è mi dissocio da chi corre in tv a creare le notizie, io devo curare. Procede per immagini. Marcello Tavio, ripeto, siamo in guerra, dice, senza bombe ma con i morti, le saracinesche si abbassano per non rialzarsi più. Le incide queste immagini a fuoco il direttore di malattie infettive a Torrette di Ancona. E c'è questa intervista che il Corriere questa mattina ha realizzato, molto interessante, ve la consiglio, sia le microzone rosse, dice, ma poi tamponi e vaccini per sterilizzare l'area. Chiudere o non chiudere, non faccio il politico, giustamente non risponde, i numeri sono oggettivi. A Urbino invece sulle vaccinazioni aspettiamo risposte, dice il magnifico rettore dell'università Giorgio Calcagnini che illustra la situazione dei vaccini. L'organismo di coordinamento delle università regionali ha inviato ad Acquaroli una lettera per includere anche gli studenti. Ai ragazzi dico che mettiamo sullo stesso piano formazione e sicurezza. L'Anconetano sfonda, quota 20.000 positivi, solo ieri 70 sintomatici, i ricoveri arrivano a 639 terapie intensive verso i livelli di saturazione, 84 sono i pazienti. Anche il sindaco di Cingoli ha chiuso le scuole 10 vittime, il totale è salito a 2.219. Mentre l'altra pagina del resto del Carlino, a pagina 4, c'è un'intervista al paziente 1 dopo un anno. Ero da solo contro un virus sconosciuto, racconta Michele Lamberta, 29 anni, ingegnere civile a Piacenza. L'ingegnere che sta a Vallefoglia, ma che risiede, nato a Vallefoglia, che risiede a Piacenza, ripercorre la sua esperienza. Dice avevo 40 di febbre da metà febbraio, ma nessuno sapeva praticamente nulla. E lui era lì, scrive la Giacomucci questa mattina, era lì quando tutto cominciava, a poco meno di 18 chilometri da Codogno, dove il 21 febbraio sarebbe emerso il primo caso di contagio da Covid-19 e che il 23 febbraio sarebbe diventata poi zona rossa. I due primi ricoverati, sempre tornandoli, percorrendo un po' la storia del Covid qui in provincia di Piesurbino, dove iniziate, i due primi ricoverati, ecco come andò. Parla Giancarlo Titolo, che è responsabile del pronto soccorso di Fano e che dice arrivò una coppia di anziani, capimmo subito e facemmo il tampone. Era mercoledì 26 febbraio 2020, scrive la Spagnoli. E quando al pronto soccorso di Fano, dove si sono appena concluse le feste del Martedì Grasso, arriva Giannina Sanchioni, 82 anni, commerciante molto noto in città con il marito Saverio Pesce di 81 anni, è lì il primo fermo immagine che il responsabile titolo ricorda di questa epidemia, quella dei primi due ricoverati per Covid a Marche Nord, poi trasferiti insieme a Pesero. E purtroppo la storia ormai ci ha lasciato anche l'epilogo di questo arrivo che è un epilogo in fausto con la morte appunto di questa coppia molto conosciuta a Fano. Invece Pompili, che è l'epidemiologo della regione Marche, racconta quei giorni quando appunto le Marche capirono cosa, prima anzi capirono cosa accadeva. Avevo studiato la Cina e qui il virus, era come a Wuhan. Un anno e forse più di pandemia per Marco Pompili, in realtà racconta, non ho vacanze o date da festeggiare, è vero, è che tutto è cominciato un anno fa, in realtà io lavoravo da prima. Lei studiava i dati di Wuhan, vero? Sì, ho seguito la pandemia in anticipo, studiavamo tutti i dati che arrivavano dalla Cina e che non era facile averli. E l'elaborazione di questi dati non è cambiata da allora, i dati sicuramente sì, come le forze per studiarli, eravamo degli artigiani dei numeri, ora però non lo siamo più e continua questa intervista. L'altro argomento invece che trova spazio sulla pagina di Ancona, lo scontro politico cui è rimasto vittima Carlo Ciccioli, mi hanno linciato per nulla. La famiglia naturale, niente di scandaloso, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia e Psichiatra, sorpreso dalle polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni. E lui racconta questa mattina al giornale il perché. Allora, la spiegazione del politico psichiatra dice, quella che è successa ieri è stata un'aggressione ingiusta e strumentale, allargata anche a livello nazionale, con una lunga ed esperta militanza in politica. Carlo Ciccioli, nel centrodestra, un attacco becero, dice ancora, da parte del Partito Democratico, nei confronti miei e di Fratelli d'Italia, privo però di argomentazioni spendibili. La verità è che io ho parlato di famiglia come nucleo fondante della nostra società. Invece di discutere nel merito si decontestualizza completamente la mia analisi senza costrutto. Ora, che cosa ho detto di tanto scandaloso, dice ancora Ciccioli? Che la famiglia naturale è formata da un uomo e da una donna e dai figli. Questa è la cellula base della società, nel senso che solo una donna può concepire una vita. All'interno di questo nucleo, al fine della genitorialità, è essenziale, continua Ciccioli, è essenziale la figura della madre e del padre, che sono insostituibili per il benessere dei figli. Poi attenzione, non sono entrato, dice ancora il politico, non sono entrato minimamente nel merito di matrimonio civile o religioso, di coppia di fatto o di famiglia allargata. Tutte forme largamente presenti nella società reale in cui viviamo. Nella sintesi estrema, invece, sulla genitorialità, cioè avendo avuto poco tempo, quindi dovendo fare una sintesi della sintesi, parlando di genitorialità, dice lui, ho specificato le funzioni dei genitori, senza però approfondire, ma valorizzando ciò che ormai è universalmente riconosciuto, accudimento e regolazione. E poi continua ovviamente con altre argomentazioni che potrete trovare sulla pagina del Resto del Calino per le audizioni di Ancona. Anche sulla pagina di Pesaro c'è lo spazio per questa polemica, dopo le frasi del Consiglio regionale, ma c'è anche la notizia di Arcoto, la senatrice fanese del Movimento 5 Stelle, che è stata nominata al Ministero del Lavoro, mentre le due Dem, ovvero Morani e Puglisi, non strappano la conferma e quindi restano fuori. Nella pagina di Fano, sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, la storia di un edicolante vittima di un ladro, la colletta dei commercianti, furto con destrezze e danni di Franz Joseph, i colleghi gli ripagano il tablet e anche il telefonino. Alle 16, alle 4 del pomeriggio, mentre riapre il suo esercizio, un giovane gli sfila il borsello con tutti i valori e poi scappa. Poi qua di spalla il Vescovo sta meglio dimesso dall'ospedale, completato il ciclo di cure, resta ancora positivo al Covid-19, il Vescovo Trasarti, ma adesso verrà curato a domicilio, a casa. Avanzano troppi soldi, possiamo dire così, il Comune di Fano perde 1.800.000 euro di fondi statali, i lari della Lega contesta la gestione del bilancio, oltre il danno anche la beffa. Insomma, come dire, in questi casi essere troppo virtuosi a volte produce l'effetto contrario. Comune troppo virtuoso, ecco infatti il titolo del resto del Carlino, persi 2 milioni, la Lega denuncia di sesto etereologico, l'avanzo di bilancio è pari al 35% delle entrate, così non rientriamo nella graduatoria. Ancora dai quotidiani l'incremento della Tari non è affatto obbligatorio, gli ambientalisti contestano la versione connessa ad Arera, alcuni comuni virtuosi, poi sotto nell'anno Covid accertate multe per 1.400.000 euro. Il liceo Torel di Fano invece installa rilevatori per misurare il biossido di azoto, una rete posizionata in 18 zone della città completa l'esperienza dell'anno scorso. La questione degli armadietti dell'Enel sparsi un po' nella città di Fano nel centro storico, gli armadetti dice l'Enel sono necessari, mentre l'assessore Brunori dice però servono anche delle regole. Dopo Zachilli che ha denunciato la selva di centraline elettriche in città, anche a ridosso dei monumenti l'assessore replica, studiamo dei parametri. Alcuni comuni hanno adottato soluzioni estetiche per nascondere l'impatto degli impianti, mentre sotto l'aumento Tari non è colpa di Arera, i sindaci possono intervenire. Sulle pagine di Pesaro invece del resto del Carlino, stop della procura e lavori nell'ex consorzio, il PRG non prevede le torri, dunque tre indagati. È la tesi dei magistrati i quali hanno chiesto un incidente probatorio, il GIP ha accolto la richiesta e nominerà un collegio di periti, dovranno stabilire se il piano regolatore in mancanza di una variante del porto consenta la realizzazione di 74 appartamenti. La comandante invece della Capitaneria di Porto di Pesaro dice vediamo se è possibile costruire. Barbara Magro ha assunto il comando della Capitaneria di Porto lo scorso settembre e lei che ha nelle mani tutta la vicenda urbanistica dell'ex consorzio agrario, lei che si sta rapportando con gli uffici della procura. La domanda dei colleghi del giornale è questa, l'indagine parte dunque dalla Capitaneria? Da chi parte poco interessa, la procura risponde il comandante, la comandante, la procura ha incaricato questo comando di svolgere gli accertamenti. Siamo di fronte ad una materia estremamente complicata e ad un iter lunghissimo, noi stiamo solo facendo delle verifiche sulla conformità e rispetto delle norme urbanistiche. E la Renco che appunto va a costruire, Renco EC, parla di situazione grottesca, purtroppo a farne le spese siamo noi. L'area ex consorzio acquistata un anno fa da un fondo israeliano, spesi già molti milioni, si parla di diatriba tra Capitaneria e Comune, si è di fronte ad una procedura amministrativa andata avanti per anni. Ancora cronaca, pagina 9 del resto del carino, fatture false per 20 milioni, preso un finto commercialista, tra gli arrestati anche Gabriele Lucarini, con studio a Montecchio e Pesaro, al vertice dell'organizzazione Rocco Lico, noto per il sequestro di Atos Rosati. La procura riminese ha scoperto un'organizzazione formata da colletti bianchi e rapprestanome, mentre sotto la finanza ha ricostruito un giro di fatturazioni inesistenti per 25 milioni di euro, frode, sequestrati 70 mila euro a un grossista di liquori, ogni anno evadeva le tasse inventandosi le spese. Dalla Valmetauro concessi dal governo un milione e mezzo di euro per il recupero delle mura di Cartoceto, finanziati tre stralci dei lavori, soddisfatto il sindaco Enrico Rossi con i progetti esecutivi più avanti in graduatoria. Valcesano ha segnati 900 mila euro per sistemare due frane, a San Lorenzo in campo si aggiudica il finanziamento attraverso un bando statale e saranno risolte in questo modo le criticità anche viarie di Miralbello e San Vito sul Cesano. Sotto invece il ringraziamento del figlio di quell'uomo di 73 anni, 74 anni, scomparso martedì mattina a Marotta, ritrovato dopo 14 ore a Ponte Sasso. L'emozione del figlio che dice grazie a tutti, mio padre ha solo qualche acciacco, ma comunque fondamentalmente sta bene. A Senigallia invece investe un pedone, poi fugge preso, anzi presa un'automobilista pirata, la donna di 51 anni si era data alla fuga dopo lo scontro in via Raffaello Sanzio, è stata rintracciata grazie alle telecamere di sicurezza di un locale vicino e poi tanta paura ma solo un braccio rotto per il 68enne travolto domenica scorsa mentre passeggiava. Poi riaprono due asili chiusi per i casi di coronavirus, sempre a Senigallia rimangono in quarantena i bambini che hanno avuto contatti con i positivi. Per quanto riguarda lo sport invece purtroppo la pallavolo, la lube è con le spalle al muro, Gribic fa lo sgambetto, i polacchi del Cosle passano all'eurosole, suole decisivo il ritorno tra sei giorni, Leal ancora deludente, alla distanza calano tutti gli attacchi, Biancorossi mai sconfitti prima dagli avversari, ora è a rischio la corona continentale. Mentre per quanto riguarda lo basket, gelo dopo l'euforia, titolo del Carlino, un positivo alla VL, riscontrato un caso di Covid nel gruppo squadra che potrà essere gestito al meglio visto il turno di riposo settimanale del campionato, dunque è una brutta notizia ma che si va a inserire insomma in una buona che è quella del riposo settimanale di domenica prossima. Poi c'è il ciclismo, il ciclismo con il Giro d'Italia 2021, andiamo velocemente a vedere come sarà questo giro dalla cartina che pubblica il resto del carino questa mattina, allora il Giro d'Italia Amore Infinito 2021, le Marche come vedete sì hanno una tappa, quella Grotte di Frassassi-Ascoli-Piceno ma per il resto insomma poca roba, mi pare che sia il 13, eccola qua, sì il 13, giovedì 13 maggio la tappa Grotte di Frassassi-Ascoli-Piceno, poi per il resto mi pare che per le Marche non ci sia granché, infatti vedete qua è tutto tratteggiato, significa che il trasferimento, vedete, trasferimento dalle Grotte di Frassassi verso Cattolica, quindi la carovana passerà soltanto ma senza competizione. Ci fermiamo qui, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio alla notizia, arrivederci. Grazie a tutti.